musica 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 io non vorrei dire si vede il meme è cui vorrei sordi nooo nooo tu clicca e metto la cartoncina perchè parte va ma raga ma fatti per lui si resta zitto l'hai pulizzato musica 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 voluk musica e anche l'ha detto no cosa hai detto no l'hai chiamata ma noi ci siamo nel luogo sacro si vai così è tutto nella testa ragazzi non andare avanti non andare avanti leva la voglia la toglia la perpetua togli la oma metti la oma togli la oma metti la oma io tirerei un bel si un bel si un per libers aspetta li vai così ma se adesso ne esce un'altra esatto immagini back 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 un'altra pizzaiola bella multi questa bella multi e non è ancora finita ecco la nota 5 stelle sembra esagerata usare il trucco della merita ora la 5 stelle vai si è spillato ora tra mezzo la prossima è la prossima è la prossima la trolla non vediamo una ricetta che garantito dai ma il wizz it darci sto cazzo di wizz it dai su ti fa desiderare ragazzi perché c'è in sé che rufa lì sta lì 6 e la borla la borla wizz it pulisci pulisci c6 puliscilo oh ma che cazzo è buona ragazzi comunque avete prende che sta sta spiare ha lo stesso design della ogni volta che esce penso che non vale ma magari facciamo tipo che figo c'è l'esce della ragazza no ok ok conferma è la tua beck di libers mamma mia mamma beck è famoso no no ragazzi ci abbiamo creduto però ora wizz it per salutare shinssei il wizz it della rivederci è il wizz it della rivederci ragazzi è il wizz it della rivederci ragazzi è il wizz it della rivederci ragazzi e ora ci dà pure una spiare ora ci dà pure una spiare si sta esagerato esagerato non si può tutto si può mai da c'era vaffanculo pronte via proprio pam 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 sì 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 vai 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 segnato io clicca commento segnato io questa carta di credito no vediamo un altro wizz it di compa è uscita come prima io mi aspetto un'altra è del banner assolutamente potrebbe uscire si potrebbe uscire uno spicy archettino uno spicy archettino un sacrificial ti serve no il wizz it ci serve dai e tacci sto wizz e non fare non fare non fare il tir che o gioco cioè dai ma vaffanculo no la lions roar non lo volevamo ragazzi rimperoni ok si boom subito eccola per te mamma mia ciao creduto è vero però pure io ci ho creduto visto per un attimo si erano che certi sono più luminosi di altri e poi fanno una cosa psicologica probabilmente guarda il wizz it per cinsei dai uno glielo dedichiamo come quattro stelle dottor lollo cosa 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 le stuzzica la petita nuove le nuove le nuove come quando fiori piove quindi un'altra un'altra bianchi amata ora devi girare un ok no ok si secondo me è più veloce della storia che si si che se pure da play ti esce proprio bene sì non ho capito se c'è pompone che vuole soldi o vuole darmi soldi vai subito diretto boom ok si ti fa vedere che ti serve quella cazzo di spada cosa no l'ha detto anche lui ragazzi si è autoclickato ma non poi aspetta l'autoclagellazione praticamente spostano ti prego sì sono colpevole tu dov'è il maestro va bene va bene ecco il maestro no 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 ho sbagliato no 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 ma io intendevo la fa da qui questa qui la cool steel cool steel sì sì chiaro dai dacci una bella spiera ok ok ci sono visit first in 6 è il meme raga mi tiene il titolo visit first in 6 e un'altra un'altra ok io lo tiro lei l'ok no ok si secondo me signor rollo ok no si si sulla multi però si si assolutamente l'ha fatto che velocità veramente l'ha fatto veramente veloce non c'è capito un cazzo se è stato così veloce hai mandato in brain lag che è in scene impact mondo e ti esce una singola tipo ma come vediamo vediamo le 4 stelle oh ancora ma hai mona tu lollo no 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 ah brutto magari chi sa come chi mi conosce sa che io con i libri ho una storia molto difficile perché non ho ancora visto user e ho due libri diciamo di un gioco liberi ah libreria lollo insomma oh no è vero no la biblioteca no la biblioteca no va bene oh quante cazzo ne trovate il top è bella sta multi questo è al 5 questo va al 5 bene 90 per secondo me dopo questa ha rotto il gioco l'ha fatto talmente veloce che gli ha dato tre epiche gli ha dato sì sì ora diretto secondo me ora diretto senza ok no che gli dici boom a la divida ti devi star zitto esatto metto la canzoncina tu clicca e metto la canzoncina perché parte ma raga ma fatti se devi star zitto se devi star zitto eccolo eccolo l'hai pulizzato l'hai pulizzato devi star zitto l'hai pulizzato devi star zitto concentrati pensa devi credere credi in te stesso come non hai mai fatto fallo ti prego fallo se esiste che ansia io me lo prendo un cielo aspettare no no che c'ero credi in te stesso quindi per riscaldarci un attimo noi tutti lo sappiamo io non vorrei dire si vede il meme eccolo no 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 raga stavo stavo esultando ho visto una spia ho detto oh no mi somigliamo parecchio rinominabile no ragazzi f f in the chat f emozioni contrastanti emozioni contrastanti nel senso che mentre piangi ti viene anche da cagare ragazzi io praticamente io mi riguarderò la clip perché stavo esultando perché ho visto il manico lungo ero tipo con le mani in alto che ridevo poi si è illuminata oh dai lascia la monta un back to back 4 stelle ah no ah ma non ha molti k ha più senso inizione stai scuolando forte è la 5 stelle innominabile che ha illuminato un po' l'atmosfera ok il count delle lance sulla live non lo mettiamo oggi un po' ci ho creduto posso dire sembrava una luce quasi giallina ma quante pizzaiole riescono ma secondo me Demi è il gioco che fa tipo te la do no no e volevi volevi sì almeno posso dire almeno non è un libro dai immagini se mi fosse uscito un altro libro off set no l'ha detto ragazzi ora bagga il gioco uscire no è talmente veloce che bagga il gioco ti giuro che se ci è ma ora prego che esce così la denunciamo e diventiamo ricchi succede un gesto molto ignoble perde il canale Cotto se c'è il libro possibile ma dovete forse sei troppo veloce a cliccare devi fare più piano madonna è uno script vivente è perché da play perché da play capito è molto più veloce c'è il tasto rapido noi no dai oh devi far serio questo gioco un'altra link che impazzisco di 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 lux bronzino ganiu vegano alcolizzata ma ma la spiare pensavo che fosse il wizard per shinsai invece wizard per shinsai thrilling è comunque oltre oltre il resto ci sta ok solo wizard wizard oh attendiamo segno non pullo più è passata la giorno sfortuna ma come ma come in che senso ma no ci sta ognuno ha le proprie teorie ci sta ma la streaming è sempre quella ma una multi adesso ma ha tirato la multi non ha tirato la multi no dovrebbe tirarla la multi l'ha tirata no l'ha tirata perché c'era 4 stelle ha perso la pazienza ragazzi ha perso la compostezza vogliamo qualcosa che non non abbia però dai non il witsit porca puttana ragazzi ce lo dici esce punto eh ma l'ho detto mentre sta facendo l'animazione capito eh ma è lì che è partito sto facendo opposta mi dispiace eccolo 5 stelle ti prego ti prego ti prego se esiste un dio ti devi premiare sopra quello che stai facendo e inizi a urlare ok io nel dubbio ho tolto la wolf della suora solo codo una trovate 2 in 30 di una attenzione è un segno funziona venire al mio cospetto a quanto pare funziona venire al mio cospetto almeno non hai trovato un libro dai oh shit so far l'ha detto l'ha detto so far ok la borla dai dai dacci un'altra un'altra 4 stelle non hai previsto dai che non è del banner quella quindi ce l'hai garantita eccolo perfetto e ancora non è un libro attenzione cos'hai tu con i libri oggi non è un libro 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 Grazie.